È ricomparsa nello stesso modo in cui è sparita, nel mistero. La lettera autografa di Giuseppe Verdi, considerata l'ultima scritta dal compositore, è stata trovata dall'avvocato Marcello Lucera nella cassetta della posta del suo studio, dentro una busta anonima. Il ritrovamento è stato fatto martedì scorso. Non se ne avevano più notizie dall'autunno del 2016, quando qualcuno in comune si è accorto che mancava dall'archivio di Goffredo Gori 144 cimeli espartiti sul compositore, donati dal musicologo pratese nel 2013. Credo che il ritrovamento sia avvenuto in queste modalità perché qualcuno sapeva che io ero ovviamente illegale, che aveva seguito, come assistito, ma anche come amico, Goffredo Gori. Sul fatto della sparizione, indubbiamente, c'è mistero. La scomparsa del documento storico, che racchiude il pensiero di Verdi sull'uccisione del re per mano dell'anarchico pratese Gaetano Bresci, era stata denunciata dal comune di Prato e mai nessuno ha chiarito se si sia trattato di un furto o di uno smarrimento. Le modalità di ricomparsa fanno propendere per la prima ipotesi con l'aggiunta del lieto fine. C'è stata un po' di trascuratezza in tutta questa storia? Ma sì, indubbiamente il bene è stato sottratto quando era nel possesso, anzi, possesso e proprietà del comune. Questo non c'è dubbio. Quindi la responsabilità della sottrazione, o come la si voglia chiamare, era del comune ed è del comune. Credo che anche il comune dovrebbe essere molto contento del ritrovamento del pezzo, per un motivo, ripeto, dal punto di vista morale, ma soprattutto perché si ricompone integralmente la donazione. Formalmente la riconsegna verrà mercoledì mattina all'ufficio legale del comune.